buongiorno a tutte le colleghe e colleghi del liceo veronica gambara un grazie a loro e a tutti coloro che vorranno fruire di questa registrazione informativa rispetto alla proposta formativa che il liceo veronica gambara qualità di istituto capofila della rete ambito numero 6 lombardia briscia interland e valtrompia offre ai ai docenti interessati questa proposta sarà sottoposta alla conferenza generale dei dirigenti scolastici lunedì 18 ottobre sarà sottoposta alla loro attenzione e dopo opportune modifiche da loro concordate sarà resa operativa prima possibile attraverso un calendario e moduli di iscrizione specifici condivido quindi ora lo schermo e andiamo alla presentazione ecco qua bene ecco qui proposta appunto per la conferenza dei dirigenti scolastici 18 10 2021 io sono marzia vacchelli e lavoro come risorsa della rete dall'anno 2019 2020 queste attività sono state sottoposte all'attenzione dei docenti attraverso un modulo di rilevazione dei bisogni formativi il modulo si chiuderà stasera intorno alle 20 e in conclusione di questa registrazione vedremo un primo foglio di analisi quanto mancano poche ore abbiamo già circa 250 iscrizioni vedremo da dove provengono e quali sono state le scelte dei docenti non solo ma anche quali sono state le disponibilità da parte loro a svolgere le attività in quanto è importante definire questo punto cioè tutte le attività che proponiamo in questa in questa sede sono attività svolte a titolo gratuito da docenti che formati presso l'ambito 6 soprattutto durante l'estate 2020 nel percorso formativo da me condotto nuovi paradigmi per la didattica innovativa e che ha formato 55 teacher trainer tutor e expert teacher dicevo tutte queste attività online sono svolte a titolo gratuito sono divise in tre specifiche tipologie cioè laboratori tecnici laboratori di disseminazione e seminari di approfondimento per quanto riguarda i moduli formativi che proponiamo si dividono in moduli tecnici e di disseminazione soprattutto per quanto riguarda l'internazionalizzazione l'educazione civica di approfondimento toccheranno sicuramente i temi dell'educazione civica e la didattica mirata al primo ciclo in particolare alla didattica innovativa e alle proposte per brescia bernamo capitale della cultura 2023 concluderemo con due proposte anche questo titolo gratuito gratuito progetto pro learn rivolto a studenti dagli 11 ai 14 anni e la proposta dell'istituto per le tecnologie didattiche una serie di corsi gestiti da questo ente all'interno del cnr quindi il più importante istituto di ricerca italiano i moduli tecnici analizzeranno la piattaforma che è tra le due più usate all'interno dell'ambito l'istituto veronica gambara utilizza google workspace ex suite di google quindi ecco io come animatore digitale mi sento di offrire della formazione rispetto alla piattaforma che ho più utilizzato anche come docente si presenteranno anche degli applicativi per la realizzazione di presentazioni digitale multimediali video editing video lezioni mappe mentali podcast content curation gamification lezioni eh interattive mediante domande e sondaggi saranno offerti anche laboratori tecnici stem ehm applicativi per creare di aree di bordo portfoglio digitali per la didattica inclusiva e eh progettazione europea e i policy per quanto riguarda l'internazionalizzazione quindi progetto erasmus più ci saranno eh degli eventi moltiplicatori e specifici eh delle esperienze sia per erasmus plus mobilità staff che eh studenti saranno ehm presentati il progetto remix eh il progetto costruire cittadinanza costituzione ambiente digitale nella scuola che è un episodio di apprendimento situato un progetto di scrittura unità di apprendimento di educazione civica sul significato di istituzione forte e moduli di approfondimento su CLIL ed educazione civica e debate ed educazione civica nonché un approfondimento una proposta su un eventuale curriculum verticale di educazione civica il corso modulo successivo sarà ehm sempre in peer to peer quindi tra pari gestito da me e ehm sarà caratterizzato da un approccio metodologico di didattica innovativa saranno anche affrontati da eh esperti esterni a titolo gratuito seminari sul service learning sulla metodo cabiardage coding e robotica educativa e un approccio graduale alla metodologia del debate ci sarà una ehm una proposta di lavoro riguardante l'evento Brescia Bergamo capitale della cultura duemila ventitré e ehm tengo ancora a sottolineare questi moduli formativi tecnici saranno ripetibili nel corso dell'anno si svolgeranno nel pomeriggio non prima delle ore diciassette eh per facilitare le docenti del primo ciclo avranno una durata massima di due ore ecco dicevo tengo a sottolineare che ehm i peer educator attivi in questa in questa azione formativa eh svolgeranno la loro attività a titolo gratuito sia i peer educator formati dall'ambito 6 che gli esperti esterni ciascun modulo sarà registrato e pubblicato sul canale youtube media education di cui trovate link anche nella home page e sarà creata la nuova playlist formazione ambito 6 21 22 entrando nel dettaglio ehm rispetto alla ai moduli tecnici di google workspace ehm saranno analizzati google drive in una forma di corso base per chi ancora non ha non ha dimestichezza con gli applicativi di base poi sarà approfondito classroom presentazioni gmail e calendar moduli documenti eh google sites e meet per quanto riguarda gli strumenti di presentazione multimediali saranno approfondito canva approfonditi canva eh think link ad hoc spark book creator e tour creator ehm book creator per la creazione di ebook tour creator per la creazione di tour virtuali mentre think link link e per la creazione di immagini interattive canva per creazioni di ehm di collaggio fotografici eh di video di mood board e ad hoc spark presentazioni video insomma molto versatili questi 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 strumenti ehm il ventaglio di proposte riguardano anche come si diceva in l'introduzione il video editing la creazione di video lezioni in flip lesson ad esempio screencast ometico eh ed puzzle puzzle la creazione di mappe concettuali quindi strumenti come linoid padlet o cogol per la creazione di podcast esempio spreaker e per la creazione di content di di piattaforme come in content curation cosa significa aggregare contenuti materiali file siti ehm risorse secondo uno schema logico vi presenterò eh ad esempio wakelet ci saranno anche eh strumenti che ormai conoscono un po' tutti e si sono utilizzati in dad come caute world wall e strumenti come nearpod e menti metal che ehm consentono la creazione di presentazioni interattive cioè arricchite da domande e sondaggi saranno offerti anche laboratori tecnici STEM sull'uso delle calcolatrici grafiche Numworks sulle basi di della programmazione con Python eh e anche sulla simulazione di fisica elettronica e scienze eh colorado per quanto riguarda eh i laboratori per l'orientamento singoli moduli tecnici saranno ovviamente sempre tenuti eh in forma laboratoriale si vedranno alcuni esempi di applicativi per la creazione di diardi di bordo e per la creazione di portfoglio digitale ehm sarà offerto anche un laboratorio particolare da parte di una dottoressa eh in informatica sulla mh difficoltà che allieve e allievi hanno con disabilità visiva sulle difficoltà che queste allieve e allievi hanno nel lavoro in piattaforma Classroom e Google Drive ecco sarà veramente molto concreto eh questo laboratorio si analizzeranno mh casi specifici quindi studio di casi e penso sia molto utile anche all'interno della cornice di quella formazione che sarà proposta eh gratuitamente dal Ministero Istruzione quest'anno appunto relativo alla eh didattica inclusiva proprio ieri sera la nota ministeriale ci informava della proroga mh della svolgimento di questa formazione al marzo duemila e ventidue eh i laboratori per la progettazione europea che condurrò io ehm si mh articoleranno in un corso base e in un corso progettazione quindi sia per quanto riguarda Erasmus più che per quanto riguarda i cleaning il laboratorio di policy si concentrerà naturalmente sul nostro progetto eh sulla scorta dell'esperienza insomma avuta da noi al liceo Veronica Gambara e farà riferimento anche alla formazione che generazioni connesse offre gratuitamente eh dal sito. Per quanto riguarda il dettaglio dei moduli di disseminazione ehm ci sarà un evento moltiplicatore delle mobilità staff e anche dei laboratori di restituzione delle singole esperienze sia staff che eh che studenti. Eh l'internazionalizzazione ha poi questa importante declinazione piattaforma e-twinning che è la più frequentata a livello europeo migliaia di docenti e di studenti. Il progetto in particolare che sarà eh presentato sarà stim with eddi ma sarà fatto riferimento ad una serie di moduli tecnici da svolgere in autoformazione con test autocorrettivi presenti nella piattaforma e-twinning. Per quanto riguarda l'educazione civica sarà presentato il progetto Remix che ha come capofila eh il liceo Gambara e che coinvolge altri due istituti. L'istituto Abba Ballini eh di Brescia quindi eh appartenente alla rete Squale Ambito 6 e il liceo Attilio Bertolucci di Parma, liceo scientifico. Questo progetto è nato nel novembre duemiladiciannove, validato nel marzo duemilaventi, ha subito numerosi ritardi a causa della pandemia, era prevista inizialmente ad esempio una mobilità in Perù, è stato rimodulato e ha preso eh finalmente avvio nel settembre duemilaventuno con la partecipazione degli studenti al Festival nazionale dell'economia civile di Firenze dal ventiquattro al ventisei di settembre. Cosa sarà offerto ancora a questi studenti selezionati? Una mobilità internazionale presso l'Ubermenzigaggymnasium di di Monaco, presumibilmente entro eh marzo duemilaventidue e un corso di produzione video mh coordinato da Nuovi Occhi per i media e un corso di eh eh agenda venti trenta, quindi sui temi di agenda duemilatrenta coordinato da Next eh nostro partner eh Next nuova economia per tutti. Sempre all'interno dell'educazione civica mh costruire cittadinanza presenteremo un episodio di apprendimento situato dal titolo costruire cittadinanza costituzione ambiente digitale nella scuola. Mh un la un un unità di apprendimento sull'educazione civica e significato di istituzione forte e mh ulteriormente nel dettaglio eh CLIL ed educazione civica e debate ed educazione civica. Quindi queste due importanti eh metodologie e speriamo che nel corso dell'anno ci siano anche ulteriori esempi best practice ehm da parte di docenti che volentieri eh mettono a disposizione eh il loro know how e mh e anche le le loro best practice. Il curriculum verticale di educazione civica sarà eh al centro della nostra attenzione quindi anche in questo caso sono graditissimi apporti di eh ulteriori docenti che vorranno eh farsi avanti insomma nel corso dell'anno scolastico e anche in relazione alle metodologie per una didattica innovativa. Quindi io intendo questi seminari sempre in forma laboratoriale online come eh laboratori peer to peer eh prettamente metodologici. Mh e mh ad esempio eh verteranno sul concetto di service learning eh sarà presentato per la scuola primaria il corso base eh sul metodo caviar d'age. Invece un corso più articolato e strutturato eh sul coding e la robotica educativa e anche un seminario specifico sull'approccio graduale alla metodologia del debate per gli alunni del primo ciclo. Mh sarà infine proposta una ehm una pista di lavoro percorso riguardante l'evento Brescia-Bergamo capitale della cultura 2023. Esterni al alle proposte del nostro del nostro ambito segnalo eh gli istituti i corsi gratuiti mh coordinati dall'istituto per le tecnologie didattiche più grande istituto di ricerca italiano all'interno del CNR. Questi corsi sono gratuiti e vertono sui temi di internet e digitale. Questo link è attivo quindi tutti coloro che eh saranno interessati a questi corsi internet of the things ehm didattica con e per la rete eh anche coding e robotica per la scuola primaria. Insomma dovranno registrarsi in piattaforma e eh avranno a disposizione video, video lezioni e test autocorrettivi a titolo assolutamente gratuito. La stessa cosa accadrà anche per gli insegnanti del primo ciclo che vorranno accostarsi a questo nuovo progetto ProLearn che eh interesserà appunto gli studenti dagli 11 ai 14 anni e avrà come obiettivo quello di eh promuovere nei bambini il processo di apprendimento, le abilità cognitive attraverso un approccio olistico e metodi innovativi. Nel mio blog che già conoscete che esiste dal appunto dal ottobre 2019 troverete sempre mh aggiornamento rispetto a mh ai laboratori quindi i link per l'iscrizione ma non solo anche eh nuove risorse, articoli di commento sia inerenti la didattica innovativa che la media education e l'internazionalizzazione. Ecco ehm in eh chiusura di questa di questa registrazione. Io vi propongo una analisi eh di quella che sono mh i dati finora pervenuti. Ripeto eh il sondaggio si chiuderà stasera alle ore venti però abbiamo finora rilevato eh iscrizioni mh da parte delle secondarie di secondo grado 88 eh divise tra Gambara, Tartaglio Olivieri, Sraffa, Mantegna, Beretta ehm De Andrè, Abba, Ballini e Pastori. Istituti comprensivi eh Flero eh Cici Centro 3, Bovezzo, Polo Ovest, Lumezzane, Gussago, Mazzano, Lograto, Marcheno, Nave, Berter, San Zeno, Montirone, mh Santa Maria Bambina Est, Brescia, Kennedy Ovest 3, Santo Femmia Est 3, Franchi Sud 2, eh Borgo Satollo, Cellatica Colle Beato e Villa Carcina per un totale di 143 adesioni dal eh dagli istituti comprensivi. Nel dettaglio poi ho riportato i grafici di mh di Google Moduli quindi qui troverete se vorrete insomma linkerò eh all'interno del liceo Gambara ehm offrirò l'attenzione dei dirigenti questi grafici c'è il dettaglio delle richieste per ogni singolo eh corso quindi sia i laboratori tecnici che i laboratori eh di approfondimento. Ehm con questo io eh chiudo ehm la mia breve registrazione resto assolutamente a disposizione non solo dei colleghi del liceo Gambara ma anche dei colleghi della e le colleghe dell'Ambito 6 per qualsiasi informazione scrivete a media education come sempre eh at liceogambara.edu.it vi ringrazio ancora e vi auguro un buon anno scolastico di formazione. A presto. gracias grazie gr Grazie a tutti.